Buongiorno! Stamattina sveglia presto, andate a prendere la colazione a nonno perché deve fare le analisi e dopo deve mangiare. Adesso lo andiamo a prendere. Let's go! Eccolo! Buongiorno! Buongiorno! Oh, c'è sonno! Pandorino! C'è sonno? Nonno sonno, nonno sonno! Ma la faccia carica! Vai, così, così! Vai, vai! Con quell'altro, con quell'altra! Con questa! Se, 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 si parte, si va! Ok? Ci sei! Fermala! Dimmi dove sei stato! Eh? Dimmi quanto fritte hai mangiato ieri! Forza! Due fritte! Devi dire la verità! Levala questa luce! Poi se potremmo controllare anche di qui sotto Nella, smettere! Se c'è Ce la fanno andando più dietro con il sedere? E come no? Più dietro, più dietro al posto Ah, vedi come Comodissimo! Anche le poccine bisogna avere E smettere di fare gli imbecilli! Sta a cercare i culi? Eh? Sta a cercare i culi? Eh? Maiale! Tu da quando c'è nonna tra filmini e culi E tu sei un'altra persona Sì, sì C'è la f***a o? Ma dove? Dritto a te, guarda, sul tapirulano Eh? Va bene? Sì, sì Noi Non va bene quella f***a? Come no? Ma p***o! Tu sei in testa di cazzo Con il turbo No Vadoci piano, Dio No Dio caro Fammi scendere Allora apro il portello Mi butto Che io ti qui dentro Ci voglio stare No, le minacce no però, eh Eh? Eh, le minacce? Ma tu da me mi vuole Facci un bot per forza?